Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si che c'è buio su tutta la terra. Verso le tre Gesù gridò a gran voce, E lì, e lì, le massa bactali, e lì, e lì, le massa bactali, e lì. E lì, e lì, e lì. E lì, e lì, e lì, e lì, e lì, e lì.